Ciao a tutti spiriti curiosi, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video in cui proverò a dare non proprio una risposta, ma diciamo uno spunto di risposta a una domanda che più di tutte le altre fa paura a chi pratica yoga. E il bello è che più tempo si trascorre a praticare, più si diventa in qualche misura esperti e consapevoli della pratica e più la risposta a questa domanda sembra complicata. E la domanda è semplicemente questa. Che cos'è lo yoga? Mi è già capitato di provare a dare una risposta a questa domanda tempo fa sul mio canale Instagram e mi sono domandata se avesse effettivamente senso provare a fare un video anche su YouTube che in qualche modo chiamasse in causa lo stesso tema. Ci ho pensato a lungo e la risposta in realtà che mi sono data è che sì, ha senso. E ha senso non soltanto perché qui magari ci sono delle persone che non seguono la mia pagina Instagram ma anche e soprattutto perché la mia riflessione evolve con le mie ricerche, con il tempo, con la mia pratica e quindi anche per me è interessante provare a riaffrontare questa domanda e vedere se qualche cosa è cambiato. Credo che per rispondere a questa complicata domanda si potrebbe fare appello a metodi diversi. Per esempio ci si potrebbe rifare a un metodo di carattere storiografico quindi si potrebbe tentare di comprendere che cos'è lo yoga girando indietro le pagine della storia e cercando di risalire alle origini di questa pratica oppure si potrebbe semplicemente impostare un'osservazione attenta del presente cercando di capire che cosa lo yoga è nella nostra società contemporanea. Io vi confesso che faccio parte di quelle persone che credono tantissimo nel valore della storia prima di diciamo portare lo yoga nella mia vita in una prospettiva anche professionale io mi occupavo proprio di storia quindi tuttora sono convintissima che per comprendere a fondo il significato del termine yoga sia necessario passare attraverso lo studio delle fonti e lo studio della storia ma questo tipo di approccio che potremmo definire scientifico richiede altri tempi altri modi e altri mezzi di comunicazione che non sono sicuramente un semplice video su youtube. Quello che però possiamo pensare di fare è chiedere in prestito alla storia un metodo e cioè possiamo provare a comportarci nei confronti dello yoga questo concetto vastissimo utilizzando proprio lo stesso metodo che gli antichi utilizzavano quando avevano bisogno di definire l'ineffabile per esempio dio ineffabile è tutto ciò che non si può dire che non si può definire perché è troppo grande per poter essere contenuto dentro a una frase o dentro a una definizione e lo yoga in una certa misura ha questa capienza a questa portata allora quello che possiamo provare a fare è esattamente come facevano gli antichi procedere per esclusione e cominciare a definire insieme che cosa lo yoga non è e inevitabilmente provando a chiarire sempre meglio cosa non è lo yoga forse avremo la possibilità alla fine di questo video di avere qualche spunto in mente che ci permetta di orientarci nella comprensione di questa disciplina che poi a conti fatti non può essere spiegata attraverso le parole perché per capire che cos'è lo yoga c'è bisogno soprattutto di tanta tanta pratica a me però interessa semplicemente incuriosire gli spiriti curiosi lasciarvi una sorta di stimolo a un percorso di ricerca che magari potrebbe cominciare a coinvolgere lo yoga proprio a partire da questo video per qualcuno di voi chi lo sa mi sembra così strano pensarci però in effetti non lo posso escludere quindi spero semplicemente di lanciare una sorta di amo che chi è interessato poi andrà a raccogliere e approfondirà con altri modi e sicuramente prendendosi tutto il tempo che è necessario quindi partiamo dal primo lo yoga non è puntini puntini una moda in che senso? nel senso che noi siamo abituati al giorno d'oggi a vedere lo yoga da tutte le parti e a immaginare lo yoga come un fenomeno assolutamente contemporaneo certo lo yoga è anche un fenomeno contemporaneo ma lo yoga non è una moda nel senso che si tratta di una disciplina di una pratica antichissima pensate che le primissime attestazioni relative allo yoga sembra che risalgano a una comunità, a una società veramente antica che si colloca da un punto di vista cronologico addirittura a partire dal 3600 avanti Cristo quindi se pensiamo a questo ci rendiamo conto che la persistenza, la permanenza dello yoga nel nostro mondo altro non è che la traccia di una tradizione che si è mantenuta, si è conservata ininterrottamente nel corso della storia dell'umanità quindi quando vediamo lo yoga diffondersi in modo capillare non dobbiamo pensare che si tratti di una moda destinata a durare una manciata di mesi e via lo yoga dura dalla notte dei tempi, certamente ci saranno momenti in cui le condizioni storiche saranno più favorevoli alla proliferazione di questo fenomeno altri momenti in cui lo yoga sembrerà in qualche misura assottigliarsi, diventare un fenomeno marginale a pannaggio di pochi ma quello che dobbiamo sapere è che lo yoga è durato nei millenni della storia ed è destinato a durare quindi che piaccia o meno, lo yoga non è una moda è una disciplina antichissima, una sorta di distillato della storia dell'umanità che è ancora disponibile per noi e se è qui, significa che ha qualche cosa da dare lo yoga non è puntini puntini, uno solo cosa significa? significa che già dalle origini di questa disciplina le origini remotissime lo yoga si presenta come un fenomeno multiforme esistono tanti modi di fare yoga esistono tanti tipi di yoga tante tradizioni sicuramente al giorno d'oggi ci troviamo di fronte a una vastità incredibile di stili di nomi, di pratiche, eccetera alcuni di questi saranno destinati a rimanere perché verranno considerati poi dalla storia probabilmente destinati più degni insomma in qualche modo di essere tramandati ai posteri e di perdurare altri inevitabilmente si perderanno però quello che è importante che ogni aspirante praticante o ogni praticante tenga presente è che lo yoga non ha una risposta che vada bene per tutti e non c'è un tipo di yoga che si possa considerare più degno, più genuino, più autentico di un altro esiste uno yoga che funziona bene per noi in un dato momento della nostra esistenza ma dobbiamo andare molto cauti con i giudizi proprio perché sin dalle origini lo yoga è un fenomeno plurale lo yoga non è uno sport molte delle persone che si avvicinano allo yoga praticano una disciplina yogica in cui l'attività corporea è estremamente importante esistono stili di yoga in cui il corpo grossolano quindi il corpo tangibile si utilizza di meno altri stili di yoga in cui il corpo è veramente assoluto protagonista ma non possiamo dire in nessuno di questi casi che lo yoga sia uno sport per un motivo molto semplice e banale e cioè che a differenza di quello che accade dentro a qualsiasi disciplina sportiva non esiste un punteggio non esiste un obiettivo specifico da raggiungere non esiste un avversario e non esiste una competizione nemmeno rivolta a se stessi e ai limiti che andrebbero in qualche misura superati insomma lo yoga è svincolato dall'idea di raggiungere o di perseguire alcunché e per questo motivo non possiamo definire questa pratica come una pratica di carattere sportivo lo yoga non è neanche una disciplina intellettuale il fatto che ci siano tanti libri che gli appassionati di yoga leggono il fatto che lo yoga richieda un approfondimento e uno studio molto seri non significa che lo yoga si possa considerare una disciplina intellettuale e questo per due motivi il primo motivo è che tutte le conoscenze e le nozioni che si possono conquistare attraverso lo studio comunque devono passare attraverso la certificazione del corpo cioè la pratica corporea rimane l'aspetto dello yoga che veramente ci permette di avvicinarci ai contenuti reali di questa disciplina io posso studiare tantissime teorie riguardo allo yoga ma ciò che conta è la mia pratica è lì che io veramente imparo è lì che veramente apprendo il secondo motivo per cui lo yoga non si può ritenere una disciplina intellettuale è che di fatto lo yoga non vuole insegnarci niente di nuovo al contrario lo yoga vuole rivelare delle conoscenze che sono già dentro di noi e che sono in molti casi le conoscenze in assoluto più umane e più animali fra tutte quelle che si possano mai immaginare conoscenze che riguardano veramente la nostra materia i nostri cinque sensi la nostra relazione con l'universo lo yoga cerca di risvegliare questo patrimonio che è sì una forma di intelligenza una forma di intelligenza antichissima ma che non ha nulla a che vedere con tutti i concetti che introduciamo nella nostra testa quando studiamo da un libro lo yoga non è una panacea molti di noi si avvicinano alla pratica dello yoga con l'aspettativa di trovare una soluzione a una serie di problematiche che però non possono essere completamente risolte attraverso la disciplina dello yoga lo yoga non è una psicoterapia lo yoga non è neanche una forma di osteopatia esiste lo yoga terapia ma è un ambito molto specifico bisogna scegliere quell'ambito se ci sono delle problematiche che possono effettivamente essere gestite attraverso quel tipo di metodo ma dobbiamo essere sempre molto cauti quando ci avviciniamo alla disciplina dello yoga perché se ci aspettiamo di trovare lì un'alternativa a forme di cura e come dire percorsi di tipo appunto psicoterapeutico o di qualsiasi altro genere forse potremmo rimanere delusi o peggio potremmo prendere un abbaglio perché come vedremo più avanti lo yoga non ha a che fare con la guarigione o il recupero del benessere psicofisico lo yoga non è una religione spesso e volentieri mi sembra che ci sia un po' o che si rischi di diffondere l'idea per cui appunto aderire alla pratica dello yoga significhi compiere una sorta di scelta di carattere pseudo religioso ma in realtà siamo di fronte proprio a una pratica che non ha niente a che vedere con la religione che può convivere serenamente con qualsiasi opzione religiosa faccia parte della nostra vita se ce n'è una e che può convivere anche con la scelta di non aderire ad alcun credo nella parola religione c'è una radice latina che ha a che fare con il tema del legame della costruzione di un legame ecco possiamo dire che lo yoga viceversa è una sorta di sgretolamento nei confronti di qualsiasi forma di legame con questo non intendo dire che praticare lo yoga significhi di dover negare la religione che fa già parte della nostra vita assolutamente non è neanche questo è semplicemente per dire che lo yoga è una scelta libera e ha a che fare con un metodo di relazione con se stessi e con la propria mente che non presuppone l'adesione a un sistema di norme a un sistema di regole e ha nessun tipo di liturgia vincolante e soprattutto lo yoga non è una religione perché non ha a che fare con il credo praticare yoga non significa aderire ad alcun credo noi non crediamo in niente o meglio possiamo credere in quello che vogliamo ma attraverso la pratica dello yoga il nostro obiettivo non è stabilire una credenza il nostro obiettivo è registrare delle percezioni osservare e possibilmente evitare di appiccicare delle etichette di giudizio delle etichette di definizione in qualche modo io sono convinta che lo yoga vorrebbe smantellare anche se stesso se potesse c'è proprio tutto un lavoro di eliminazione delle sovrastrutture quindi ci collochiamo in uno spazio molto diverso da quello delle religioni bene mi direte voi ma allora che cos'è questo benedetto yoga? beh possiamo qui chiedere veramente in prestito un aiuto alla storia e recuperare un termine che è la parola il termine con cui in sanscrito si definisce lo yoga lo yoga storicamente è una darsana cioè un sistema di pensiero nell'india antica c'erano tanti sistemi di pensiero diversi lo yoga non era assolutamente l'unico ma tra questi sistemi di pensiero che adottavano, aderivano, recepivano le antiche scritture dell'india i veda c'è anche lo yoga e voi mi direte grazie ma questa è una definizione di cui io non mi faccio assolutamente nulla e invece no perché dentro la parola darsana c'è una radice molto bella che ha a che fare con il concetto del vedere la darsana è una visione potremmo addirittura dire che sia un punto di vista una prospettiva una variante interpretativa insomma lo yoga è qualcosa che ha a che fare con la prospettiva da cui si osserva il mondo l'essere umano l'universo tutto per questa ragione praticare yoga non significa fare sport non significa praticare degli asana cioè delle posizioni specifiche non significa nemmeno fare psicoterapia o cercare di stare meglio con se stessi praticare yoga significa cominciare a guardare la realtà da una data prospettiva è per questo che tempo fa mi è venuta in mente una metafora che adesso voglio utilizzare di nuovo cioè la metafora degli occhiali lo yoga è un po' come un paio di occhiali che noi possiamo metterci e attraverso questi occhiali la nostra realtà assume dei contorni e delle prospettive diverse rispetto a quelle che c'erano prima una ragazza che si chiama Roberta e che saluto quando aveva sentito questa definizione degli occhiali me ne aveva data una in risposta molto bella dicendomi che per lei invece lo yoga è proprio togliersi degli occhiali che già abbiamo come se noi girassimo per il mondo con su un paio di occhiali che ci permette di dare per scontato tutta una serie di cose e invece quando pratichiamo riusciamo a toglierci questi occhiali e ritornare alla nostra vista originale e io devo dire che tutto sommato questa visione che mi ha raccontato Roberta mi piace anche di più della metafora degli occhiali che avevo trovato comunque sia praticare yoga ha proprio a che fare con il vedere e ha a che fare con il vedere in tanti modi diversi lo yoga rivela a noi stessi delle cose del nostro corpo che prima non ci erano note rivela a noi stessi delle cose della nostra mente dei nostri pensieri che non ci erano note praticare yoga significa anche guardare il mondo con occhi differenti percependolo in un rapporto diverso con l'essere umano stesso che sta praticando perché è proprio vero che man mano che si pratica tante cose che prima dello yoga sembravano fondamentali in qualche modo perdono la loro importanza e viceversa ce ne sono altre come la semplicità del respiro per esempio che rivela di avere un'importanza fondamentale centrale ma soprattutto credo che praticare yoga significhi cominciare a vedere una cosa estremamente piccola ma estremamente grande e cioè che dentro a questo nostro corpo che poi in realtà è anche la nostra mente ed è anche il nostro spirito insomma dentro a questo organismo umano che noi siamo c'è una specie di specchio di frammento dell'universo intero questa visione come potete immaginare è in grado di trasformare proprio la prospettiva di un'interesistenza per tante ragioni e la più importante fra queste ragioni almeno per quel che riguarda me e il mio vissuto è che scoprendo di essere io una specie di specchio dell'universo ho ritrovato un senso molto più profondo della mia unicità e dell'amore nei confronti di me stessa e poi per converso inevitabilmente anche la relazione con l'esterno cambia perché se questo esterno in fin dei conti è uguale a me anche le cose che mi sembrano più distanti più lontane più inconcepibili ingiustificabili tutto sommato io comincio a riscoprirle come parti di me per un motivo molto semplice perché io sono la natura e dentro la natura non c'è nulla che sia escluso non c'è esperienza non c'è elemento non c'è polarità che non venga realizzata praticare yoga significa immettersi lungo un cammino di visione che in qualche modo rappresenta un tentativo di fare un piccolo salto nel nostro percorso di individui è un salto che possiamo fare in tanti modi diversi trovando strade le più diverse ecco lo yoga ci propone di fare questo piccolo saltino spirituale utilizzando il nostro corpo che è poi di fatto lo strumento che nessuno in questo momento in questa vita ci può davvero togliere può cambiare il nostro corpo possiamo perdere un utilizzo simile a quello che abbiamo sempre dato per scontato di avere o conquistarne uno completamente nuovo ma di fatto finché siamo dentro a questa vita ci stiamo all'interno di questa casa ed è per questo motivo che praticare yoga significa recuperare la relazione con il nostro corpo è qualcosa che avviene spontaneamente ma l'obiettivo finale della pratica non è appunto da identificare in una mera questione di benessere o di wellness così come siamo abituati a definirlo nella nostra epoca la pratica dello yoga ha proprio a che fare con un cammino con un percorso che mi piace immaginare possa andare lontanissimo nel campo delle stelle io spero di essere riuscita con questo video sicuramente non a dare la risposta alla annosa questione del che cos'è lo yoga perché credo che questa domanda non possa trovare mai una risposta univoca e pienamente soddisfacente spero però di aver incuriosito almeno qualcuno di voi che magari può adesso percepire e riconoscere la voglia di approfondire questi contenuti se ci sono delle domande mi piacerebbe molto leggerle qui sotto in info box se questo tema, se questo tipo di video vi è piaciuto ne posso fare degli altri quindi andando a recuperare un po' i mattoni della nostra conoscenza relativa al mondo spirituale e agli ambiti di questo grande universo che io conosco meglio vi ringrazio per la vostra presenza ancora una volta e con questo direi che la guida interstellare anche per questa sera si chiude io sto registrando di venerdì e sono felicissima che la settimana sia finita è stata per me questa una settimana molto intensa, molto piacevole anche piena di pensieri, riflessioni, scoperte ma mi sono anche messa abbastanza alla prova da un punto di vista energetico quindi sono altrettanto felice adesso di godermi una due giorni meravigliosa di nulla facenza spero che anche voi abbiate davanti un weekend fatto così io e le mie piante vi salutiamo, vi mandiamo un grandissimo bacio a presto!